Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. O Sacro Cuore di Gesù, nostro Signore, buono e misericordioso, e nostro Dio grande e potente, che hai detto di chiedere con fiducia, di cercare con confidenza, di bussare con insistenza nella preghiera. Con la certezza che qualunque cosa chiederemo nel tuo nome ci sarà concessa, ecco che noi, riuniti ad adorare il tuo dolce cuore, appoggiati all'infallibilità delle tue promesse e appellandoci ai meriti e all'intercessione del Santo Padre Pio, che tutte le grazie ha fidato a te e ha ottenuto dal tuo cuore sacratissimo e dal cuore immacolato di Maria Santissima, come dal cuore castissimo di San Giuseppe, veniamo a chiedere ora a te, insieme al Padre Celeste e al Divino Spirito. Queste grazie spirituali e materiali ti raccomandiamo per noi e per gli altri, nel silenzio e nell'intimo dei nostri cuori. Chiedere la grazia che abbiamo nel cuore Già da ora crediamo e ringraziamo nell'attesa dell'oro esaudimento, umilmente accettando e benedicendo la superiore, sapiente e santa volontà di Dio. Amen. Lode, onore e gloria al Sacratissimo Cuore Eucharistico di Gesù, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato, adorato, amato e ringraziato sia ad ogni istante il Cuore Eucharistico di Gesù in tutti i tabernacoli del mondo fino alla consumazione dei secoli. Ecco, fin dove è giunta la carità vostra eccessiva a Gesù, mio amantissimo, voi, delle vostre carni e del preziosissimo vostro sangue, apprestata mi avete una mensa divina per donarmi tutto voi stesso. Chi mai vi spinse a tali trasporti di amore? Non altri certamente che il vostro amorosissimo cuore. O cuore adorabile del mio Gesù, fornace ardentissima del divino amore, ricevete nella vostra piaga sacratissima l'anima mia, affinché in questa scuola di carità io impari a riamare quel Dio che mi die prove sia ammirabili dell'amor suo. E così sia. Cuore Eucharistico di Gesù, dolce compagno del nostro esilio, io vi adoro. Cuore Eucharistico di Gesù, cuore solitario, cuore umiliato, cuore derelitto, cuore dimenticato, cuore disprezzato, cuore oltraggiato, cuore disconosciuto dagli uomini, cuore amante, i nostri cuori, cuore supplicante ed essere amato, cuore paziente ad attenderci, cuore premuroso di esaudirci, cuore desideroso di essere pregato, cuore fonte perenne di nuove grazie, cuore silenzioso che volete parlare alle anime, cuore dolce e rifugio della vita nascosta, cuore maestro dei segreti dell'unione divina, cuore di colui che dorme ma sempre veglia, cuore Eucharistico di Gesù, abbiate pietà di noi. Gesù ostia, io voglio consolarvi, io mi unisco a voi, io mi immolo con voi, io mi annichilo dinanzi a voi, io voglio dimenticarmi, per pensare a voi, essere dimenticato e disprezzato per l'amor vostro, non essere compreso ed amato che da voi, mi tacerò per ascoltarvi e mi lascerò per perdermi in voi. Fate che io sollevi, così la vostra sete della mia salute, la vostra sete ardente della mia santità, e che purificato, io vi rendo un puro e vero amore, non voglio più stancare la vostra attesa, prendetemi, io mi do a voi, io vi consegno tutte le mie opere, il mio spirito per illuminarlo, il mio cuore per dirigerlo, la mia volontà per fissarla, la mia miseria per soccorrerla, l'anima mia e il mio corpo per nutrirli, cuore eucaristico del mio Gesù, il cui sangue è la vita dell'anima mia, che io non viva più, ma vivete solo in me, così sia. Lode, onore e gloria al Sacratissimo Cuore Eucaristico di Gesù, lodato, adorato, amato e ringraziato sia, ad ogni istante, il Cuore Eucaristico di Gesù, in tutti i tabernacoli del mondo, fino alla consumazione dei secoli. Gloria al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo, com'era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dillo Spirito Santo. E'll iscri beginning, Il Figlio e dillo Spirito sals serum Sali basca riche in il nostro Schiavono, in questo tempo è in Italia, in questo modo. CE contemporà la Grazie a tutti